Buongiorno e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Spazio Notizia che apriamo parlando di cronaca partendo da Trapani dove la polizia ha fermato un presunto scafista e tratto in arresto un cittadino straniero irregolare sul territorio nazionale ma per i dettagli vediamo il servizio. Continua senza sosta l'attività di contrasto alla criminalità legata all'immigrazione clandestina da parte della polizia di stato. I poliziotti della squadra mobile della questura di Trapani hanno sottoposto a fermo un cittadino tunisino gravemente indiziato del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione allo sbarco avvenuto nei giorni scorsi di 30 migranti tunisini intercettati e soccorsi a largo dell'isola di Favignana da una motovedetta della Capitaneria di Porto. Diversi diportisti infatti avevano segnalato un gommone con evidenti difficoltà di galleggiamento che si dirigeva verso la terraferma. Al termine delle procedure di identificazione dei migranti e dagli elementi emersi a seguito dell'attività di indagine si è appurato che il cittadino tunisino sarebbe stato alla guida dell'imbarcazione partita dalle coste della Tunisia con a bordo altri 30 migranti che avrebbe dovuto approdare in Sicilia. Il presunto scafista così è stato sottoposto a fermo ed è stato condotto in carcere con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina aggravata. La misura è stata poi convalidata dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trapani su richiesta della locale procura della Repubblica. Nella stessa giornata, presso l'hotspot di Pantelleria invece, al termine delle complesse procedure di identificazione degli stranieri irregolari che nei giorni precedenti erano sbarcati sull'isola, gli agenti hanno tratto in arresto un altro cittadino tunisino destinatario di un provvedimento dell'autorità giudiziaria. L'uomo deve scontare una pena di sette anni e nove mesi di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, reato commesso durante la sua permanenza in Italia. Anche quest'ultimo, dopo essere stato trasferito a Trapani, è stato recluso all'interno della locale casa circondariale a disposizione dell'autorità giudiziaria. Da Trapani a Comiso, nel Ragusano, si parla di atti persecutori nei confronti dell'ex compagna. È stata disposta una misura cautelare per un cittadino tunisino. Vediamo il servizio. I carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa proseguono assiduamente l'attività di contrasto alla violenza di genere, contribuendo all'efficace applicazione delle tutele garantite dal cosiddetto Codice Rosso. Il costante impegno profuso nella repressione di questa tipologia di reati ha permesso ai militari della stazione di Comiso di procedere all'esecuzione di una misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa con applicazione del dispositivo elettronico di controllo nei confronti di un cittadino tunisino, il quale, dopo essersi fraudolentemente introdotto all'interno dell'abitazione dell'ex compagna, rubando l'autovettura di sua proprietà, l'aveva più volte aggredita fisicamente procurando le diverse scoriazioni all'altezza del petto e delle braccia ed esistendo dall'azione violenta grazie al soccorso prestato alla donna da due passanti che l'avevano poi accompagnata in caserma per sporgere denuncia. I carabinieri hanno quindi formalizzato le dichiarazioni della donna e attivato le procedure di protezione delle persone vittime di violenza deferendo l'ex compagno all'autorità giudiziaria per i reati di atti persecutori, lesione personale, violazione di domicilio e danneggiamento e avanzando una richiesta di emissione di idonea misura cautelare da applicare nei confronti dell'uomo. A Catania invece gli agenti della Polizia di Stato hanno beccato un giovane, un minorenne, che andava in giro con uno scooter, un motociclo, risultato poi rubato. Trovato in possesso di un motociclo rubato, un diciassettenne è stato denunciato dalla Polizia per ricettazione e resistenza pubblico ufficiale. Gli agenti della squadra volanti della questura di Catania in transito per via Antico Corso hanno notato un ragazzo che alla loro vista scendendo da un motociclo liparcheggiato ha tentato rapidamente di allontanarsi. Lo stesso è stato fermato dai poliziotti che a quel punto, insospettiti, hanno approfondito il controllo all'esito del quale il motociclo su cui si trovava il giovane è risultato da ricercare poiché rubato alcuni giorni prima. Il giovane è fermato, un diciassettenne di nazionalità rumena ma residente a Catania, non è stato in grado di fornire alcuna plausibile spiegazione in merito al possesso di quel mezzo, pertanto gli agenti hanno deciso di accompagnarlo in ufficio per i successivi accertamenti. Tuttavia, proprio quando i poliziotti lo hanno invitato a salire sull'auto di servizio, il ragazzo è riuscito a divincolarsi dandosi alla fuga. Dopo un breve inseguimento però è stato bloccato. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale ricettazione, ultimati gli adempimenti di rito e informato il pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni, è stato affidato a un familiare mentre il motociclo è stato restituito alla legittima proprietaria. Cambiamo argomento, ci spostiamo a Taormina, parliamo di raccolta di fiuti o meglio raccolta differenziata con il comune che inasprisce le sanzioni nei confronti di chi non rispetta le regole. L'avvertimento arriva direttamente dal sindaco di Taormina, Cateno De Luca. Vediamo il servizio. Tempi duri a Taormina per chi viola le regole della raccolta differenziata dei rifiuti. Il sindaco, Cateno De Luca, ha infatti inasprito le sanzioni per i trasgressori. Nell'asse commerciale tra Porta Catania e Porta Messina, Piazza Duomo, Corso Umberto I, Piazza Vittorio Emanuele, via Timeo, via Teatro Greco e altre vie limitrofe, le utenze non domestiche potranno gettare la spazzatura solo dall'1.30 alle 5 del mattino. Sui rifiuti cerco di fare il mio mestiere, ha dichiarato il sindaco, Cateno De Luca, ci saranno sanzioni da 350 euro e sospensione dell'attività per 30 giorni in caso di ripetute violazioni. È stato predisposto, ha aggiunto il primo cittadino, un apposito servizio di vigilanza e controllo per dissuadere e invitare al rispetto delle regole. È in vigore la nuova ordinanza sindacale che inasprisce le sanzioni. Ora da 50 euro si sale, appunto, a 350-500 euro in base alle tipologie di violazioni contemplate dalle precedenti ordinanze rispetto alle quali, purtroppo, sono state accertate sistematiche violazioni delle relative prescrizioni che hanno generato danno all'ambiente e al decolo urbano, con ovvie conseguenze di natura igienico-sanitaria e grave danno di immagine, ha concluso De Luca. Tra i negozianti serpeggia già qualche malumore. Parliamo di calcio. Purtroppo è andata male al Palermo dopo il buon esordio in gare ufficiali, l'esordio in Coppa Italia. Per il rosa-nero, invece, è arrivata la sconfitta nell'esordio in campionato, nel campionato di Serie B. 1-0 in trasferta sul campo del Brescia, 1-0 per il Brescia, chiaramente, con gol arrivato quasi allo scadere. Ovviamente amareggiato il tecnico Dionisi, ma dice dobbiamo subito rialzare la testa. Allora sentiamo le parole dell'allenatore del Palermo rilasciate ai canali ufficiali del club. Abbiamo tempo bene, potevamo farla benissimo se avessimo creato qualche presupposto in più, perché le condizioni per essere più pericolosi, abbiamo avuto i presupposti per essere più pericolosi e poi negli ultimi 30-25 metri siamo un pochino mancati di precisione, di imprevedibilità. Questo non ci ha permesso di essere più pericolosi nel primo tempo. Il secondo, purtroppo, spesso potrà succedere che il dettaglio, l'episodio, potrebbe spostare. Così è stato perché da una serie di cross abbiamo difeso abbastanza bene. in uno degli ultimi, poi dopo purtroppo c'era poco tempo per recuperare e ci eravamo bruciati anche uno slot purtroppo nel primo tempo, sperando che il nostro portiere recuperi la svelta. Doppio rammarico, perché oggi abbiamo fatto un primo tempo positivo, un secondo al di sotto delle nostre possibilità e quindi l'ambiente ha caricato la squadra avversaria e su un episodio hanno portato a casa il loro risultato. Il nostro pubblico è fantastico, lo scopro ora, lo scopro da questo mese e mezzo che alleno Palermo, ci ha seguito nei vari ritiri anche in Inghilterra e oggi erano in tanti. Ci dispiace non aver condiviso con loro un risultato positivo, lavoriamo per condividere un campionato positivo e risultati positivi con loro, contiamo sul loro supporto che oggi è stato incredibile e così dovrà essere, come ho già detto poi dipenderà anche da noi aumentare questo numero di tifosi, far sì che loro ci sostengano sempre come hanno fatto oggi perché poi dovremmo fare prestazioni come oggi, con darne continuità anche nel secondo tempo e essere anche più pericolosi di quanto lo siamo stati oggi. La prossima, lo sapevamo, è una partita difficile, l'inizio del calendario, l'inizio del campionato per noi si prospetta difficile con tre turni fuori casa e la prossima a Pisa non sarà semplice. Ora torniamo a Palermo, finalmente prepareremo la prossima partita, le prossime due perché saranno due partite ravvicinate molto impegnative, ma come lo sono tutte, poi fuori casa doppiamente nella nostra città, davanti anche ai nostri tifosi e pronti perché dobbiamo rialzare la testa. Nei giorni scorsi abbiamo parlato del grande successo del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, sia a Taormina che a Tindari. Ebbene a Taormina la Turandot è andata in scena anche con la lingua dei segni, dunque il silenzio si è trasformato in musica. Un silenzio che si trasforma in musica. A Taormina, nell'ambito del Festival Lirico dei Teatri di Pietra, promosso dal coro lirico siciliano con la direzione artistica del maestro Francesco Costa, è andata in scena l'opera di Puccini, Turandot. In tale occasione particolare risalto è stato dato all'accessibilità e all'inclusione sociale. Si è infatti rafforzato e continuato il progetto sperimentale e pioniere della traduzione simultanea dell'opera lirica nella lingua dei segni per una vera e propria rivoluzione culturale e sociale. Centinaia di non udenti hanno scandito il tempo di un vero e proprio oltrepassare la stessa essenza della musica, trasformando gli artisti, l'orchestra sinfonica, i danzatori e anche le pietre millenarie in corpi vibranti e in sensazioni di forte impatto emozionale. Siamo davvero commossi, ha dichiarato il maestro Francesco Costa, direttore artistico del Festival, perché come artisti dopo molti anni di attività abbiamo bisogno sempre di nuovi spunti e motivazioni. Così l'idea di poter donare un sorriso, un'emozione a persone cui solitamente questa forma di arte è sostanzialmente preclusa, ci rende molto orgogliosi e sempre più responsabili della nostra missione nel mondo. E' questo che accade quando il silenzio si trasforma in musica. Il Festival Lirico dei Teatri di Pietra proseguirà ancora a ritmo serrato per due mesi, con oltre 40 spettacoli in tutta la Sicilia, un calendario itinerante in cui si fondono mito e storia, suggestioni visive e sonore. Dopo il successo della scorsa edizione c'è grande attesa al Parco Botanico e Geologico delle Gole dell'Alcantara per lo spettacolo La Bibbia. Sentiamo Mauro Romano. Ci troviamo al Parco Botanico e Geologico delle Gole dell'Alcantara. Avvocato Alessandro Vaccaro, quante presenze avete avuto quest'estate? Tante, migliaia. E' un trend che sta aumentando di anno in anno dopo il Covid. Quest'anno, oltre il turismo e la natura, stiamo rilanciando anche l'aspetto culturale e artistico alle Gole dell'Alcantara. Oltre al grande successo dell'Inferno di Dante, riproponiamo come lo scorso anno col collega Rosario, La Bibbia, un'opera multimediale unica che racchiude in sé storia, arte e location. Perché le Gole dell'Alcantara sono diventate, in ultimamente, una rinomata località anche artistica e culturale. Lo spettacolo verrà fatto non nel Greto del Suno, ma nella parte sovrastante, le Gole, una parte molto bella, i prati di Elios, dei prati bellissimi, che di sera, con quello scenario e con la musica, creeremo. Sarà veramente uno spettacolo unico e raro. Avvocato Rosario Toparchio, uno spettacolo davvero unico. Ci può raccontare, ci può dare delle anticipazioni su questo spettacolo? Certamente, con vero piacere. Allora, intanto, alle ore 21, il 20 e il 21 agosto, al Parco Botanico e Geologico delle Gole dell'Alcantara dei fratelli Vaccaro, sarà rappresentata questa opera musicale multimediale unica nel suo genere, unica intanto perché riesce a raccontare in una chiave molto moderna e tecnologica alcuni episodi della Bibbia, ma soprattutto perché questi episodi in sezione sequenze cinematografiche con musiche faranno parte di questo ambiente così leggendario, epico, stupendo dei prati di Elios che si trovano qui nella zona sovrastante delle Gole. Sarà uno spettacolo nello spettacolo e questa sua modernità, questa sua location è grazie all'intuizione del collega, dell'avvocato Alessandro Vaccaro, ma anche dei fratelli dell'ingegnere Maurizio e il dottore Nino, veramente hanno accolto questo spettacolo perché hanno intuito la bellezza e che l'anno scorso con quella bellissima risposta di pubblico che c'è stata, speriamo di poter ripetere lo stesso successo anche quest'anno. Per il momento è tutto, a più tardi per un nuovo appuntamento con Spazio Notizia. Grazie a tutti.